A poco più di un mese dal taglio del nastro sono oltre 6.000 i biglietti staccati dal Mike per Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. La mostra celebrativa dei 500 anni dalla morte del grande artista sta riscuotendo un ottimo successo. I dati di accesso al Mike rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono triplicati. La strada delle grandi mostre era già stata tracciata anche precedentemente, dichiara l'assessore la cultura del comune Francesco Attesti, ma Signorelli 500 sta dimostrando che è possibile anche per Cortona entrare nel novero dei grandi eventi museali nazionali. Fra le visite speciali c'è da evidenziare quella di giovedì scorso, quando il cardinale Gualtiero Bassetti è stato accolto dal sindaco Luciano Meoni. Bassetti, già presidente della conferenza episcopale italiana e vescovo della diocesia retina, per oltre 10 anni ha visitato la mostra accompagnata Onora Sandrelli, curatrice degli itinerari Signorelli 500. Il risultato, proseguo ancora l'assessore Francesco Attesti, è frutto di una programmazione che è partita tre anni fa di contatti personali che hanno creduto nel progetto e hanno appoggiato l'iniziativa.